Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 a rallentamenti per perdita di carico tra in Cisaraggello e Firenze Sud in direzione Nord. Si tratta di un copertone in galleria, prestare attenzione. In Fipilic code di un chilometro con tendenza all'aumento nelle due direzioni per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra. Per le statali sul raccordo Siena-Firenze sono in corso lavori all'altezza di Tavarnelle e Valdipesa con scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in ingresso e in uscita in direzione Firenze. Per il traffico urbano di Firenze in via dell'Ertacanina fino al 1 luglio per lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in orario 9.30 a 17 il tratto da Viale Galileo al Civico 11 è chiuso, previsti anche di vieti di sosta. Prima di salutarci per il traffico aereo il volo Firenze-Parigi delle 9.35 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 10.05. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!